Scusami, amico, ma tu che cazzo sei? Uno che ti dice come stanno le cose. Ok. E qual è il film che devi fare prima? Uno di freddo... Eh, 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 mi permetti che risponda io. Prima di tutto a chi devo rispondere? Devo rivolgermi a te o parlare con te? Vuoi parlare con me? È quello che pensavo. Mettiamola così, allora. A parte Freaks, quello che facciamo non sono cazzi vostri. Oh! Eccolo, eccolo qui. Questo è il progetto.